A me piace molto viaggiare perché viaggiando si imparano tante cose, forse anche i nostri amministratori di Taranto dovrebbero girare l'Italia per capire, mi riferisco alla raccolta differenziata, state vedendo quello che sta accadendo a Taranto con le campane, i raccoglitori che sono insufficienti e come numero è proprio incapienti, troppo piccoli, mi trovo a Napoli e vedete i raccoglitori per la differenziata come sono molto ma molto ampi, molto ma molto capienti, li vedete qui tutti a sera appunto per le varie tipologie di rifiuti, plastica e metalli, carta e patticino, carta, vetro e quant'altro. Prego il nostro operatore proprio di avvicinarsi per far vedere come sono i targhi, lo vedete, bello largo, capiente, questo per plastica e metalli e la stessa cosa vedete qui. insomma, insomma vedete come il quadro rispetto a Taranto è completamente differente e i rifiuti non trabottano. Vedete? È molto semplice, basterebbe che chi ma ambiente ami l'ex sindaco Melucci, ma tanto non ne avrà più occasione perché non sarà più il sindaco di Taranto, ma voglio dire chi ha amministrato Melucci e Musillo, i vertici di chi ma ambiente ami, avrebbero potuto mutuare l'esperienza di Napoli, girare l'Italia e capire come si fa la differenziata. Qui a Napoli il problema non si pone, bastava prendere il nome dell'azienda che appunto produce questi tipi di campane o confrontarsi con le varie amministrazioni comunali, quella di Napoli in modo particolare, per capire come si gestisce la differenziata da Napoli e tutto. Chissà se a Taranto Melucci e Musillo magari avranno imparato qualcosa da questa lezione di raccolta differenziata perché ricordiamo Musillo ha amministrato con Melucci, aveva i suoi uomini e le sue donne negli assessorati e nelle società partecipate. Da Napoli è tutto, alla prossima!